tutti sono dei su instagram ma in realtà siamo solo persone normali buongiorno devo subito caricare una foto naturale del mio risveglio vediamo un po no così non va bene magari sistemando il cuscino no più luce un po di trucco e rossetto naturale no il mio doppio mento sta rovinando la foto devo allenarmi fatto mi sento già più magra oh no non ci siamo mi serve l'attrezzatura professionale per l'illuminazione dove sono le lampade tu con il riflettore stai lì grande proviamo cambierò posizione dovrei fare la misteriosa o la civettuola ora devo solo caricarlo con l'hashtag senza filtri mi sono svegliata così bellezza al naturale sono sempre al centro dell'attenzione in tutte le mie foto una foto con i miei amici grazie al cielo a un sacco di scarpe extra ma ho bisogno di facce vere per il mio gruppo di amici ecco alcuni modelli perfetti ehi ragazzi sorridete e quello chi è lo conoscete perfetto adesso caricherò le foto hashtag re della festa è il più popolare che coppia carina hanno così tante foto insieme ma in realtà è davvero difficile convincere un ragazzo a fare una foto dai amore solo un'altra foto mostrami quanto mi ami guarda almeno nella telecamera ecco ora va meglio è per me no ma almeno è venuta una bella foto come se le nostre mani abbracciassero il cappuccino hashtag love puccino tesoro non sei affatto romantico posso fare una foto solo a te sorridi lasciami in pace maniaca delle foto ehi follower il mio ragazzo sta leggendo un libro molto complesso vuoi una bella foto con fumogeno preparati al duro lavoro per favore accenditi forza finalmente oh cavolo sta davvero bruciando pronta imponente davvero incredibile il fumo mi è entrato negli occhi accidenti ho respirato troppo fumo e i miei vestiti sono sporchi la mia maglietta non è sopravvissuta beh potresti riprovare un appuntamento romantico sulla spiaggia cosa c'è di meglio solo una bella foto di un cuore nella sabbia hashtag il nostro amore ops un'onda l'ha cancellato riproviamo ehi la tua metà è storta no tu l'hai disegnata storta questo cuore è un disastro dato che non ti piace niente di quello che faccio allora siediti da sola sulla spiaggia con te ho chiuso addio il mio cuore ha spezzato ma posso comunque fare una bella foto i miei follower non devono sapere che ci siamo lasciati questo idiota mi ha scaricata un'ora fa come osa ho bisogno di una foto per renderlo super geloso chiederò al mio amico di posare con me uh angolazione perfetta sorriso hashtag nuovo amore prendi questo ex come ha potuto quel serpente rimarrò sola per sempre non gli piaceva nemmeno fare foto insieme era ovvio che non eravamo fatti l'uno per l'altra una foto con il mio personal trainer è la prova fotografica di un ottimo allenamento ma in realtà le cose non sono proprio così il mio allenatore è un mostro mi prende sempre in giro per i miei deboli muscoli e mi urla sempre contro vorrei tirargli questo peso ma sono troppo debole un altro round stai scherzando sei un demone non ce la faccio più devo nascondermi in modo che non possa vedermi oh no eccolo qui sembro così intelligente in posa con questo libro hashtag cervellone ah sono stanco di posare metterò via il libro e conterò i like intellettuali hashtag amo l'autunno che foto misteriosa e bella ma in realtà non è poi così igienico pronta? foglie in arrivo ah che schifo ho qualcosa negli occhi e insetti ovunque almeno le foto sono stupende sono la principessa dell'autunno il mio cane è così fotogenico solo un problema odia farsi fotografare vieni qui fluffy voglio farti un servizio fotografico dai un bacio alla mamma per instagram dai non essere timido immagino che dovrò fregarlo un po' di yogurt sulla guancia e fluffy diventa il cane più affettuoso del mondo questo sì che è amore approfitto del momento e farò delle belle foto adoro il mio cucciolo guarda quanto è bello questo ragazzo è un imprenditore e un life coach è ovvio che abbia molto successo fico come sarà nella vita reale ecco il cameriere aspetta un attimo ma è l'imprenditore ma con grembiule e senza una macchina elegante sì sì certo come no life coach prenderò l'insalata mettiti in una posa insolita stupisci i follower con la tua flessibilità perfetto le gambe aggrovigliate sono super trendy sei una modella fantastica queste foto sono incredibili solo una domanda come districare le gambe aia che foto misteriosa richiede molte abilità e forza fisica ok va bene va bene anche qui sono spider girl oh no mi sono incastrata aiuta questa innocente vittima di un servizio fotografico andato storto chiama aiuto fatemi scendere è ora di allenarsi ma se non faccio una foto non conta ed ecco che arriva la mia amica mi fai una bella foto stai più dritta lascia che ti aggiusti i capelli sposta il peso qui si fletti i tuoi muscoli mostra ai follower la tua passione perfetto foto fatta grazie agli dei del fitness posso respirare e rilassare i muscoli come sono sportiva che immagine stupenda sono alta e indosso un vestito fluttuante questa è vera arte ma dietro questa foto c'è un intero team di professionisti modella per favore non urlare so che hai paura delle altezze ma l'arte chiede sacrificio ventilazione alla massima potenza soffia più forte fatemi scendere ti sono piaciuti i nostri trucchi fotografici per instagram scrivi qui sotto quali trucchi hai usato per la tua foto perfetta e ragazzi iscrivetevi al canale mettete un like al video e fate click sulla campanella non perdete i nuovi esilaranti trucchi fotografici di wuhu ciao 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 ciao